ciao a tutti e bentornati ancora una volta su indie gameplay vita oggi non potevo non farvi un video su questo titolo stiamo parlando di mafia la definitive edition perché non posso non farlo non è un indie è vero ma è un remake di un gioco del 2002 gioco che siete fortunati ho sviscerato e ho giocato almeno fino al 2004 la cosa curiosa che mi piace sempre ricordare di questo gioco che io lo collegare a un volante mi pare della microsoft ai tempi e imparare a guidarci all'interno di questo gioco usando la modalità fatti un giro ve l'avvio subito vi parlerò di questo titolo di quello che è di quello che non è e di com'è questa versione che non è una remaster ma un remake perché è stato rifatto sono state modificate delle cutscene dei dialoghi è stato rifatto completamente il doppiaggio il doppiaggio in italiano ma con doppiatori diversi quindi non avete più claudio moneta che doppiatore che adoro vi dovrete riabituare se avete giocato precedente se invece non lo avete giocato seguite attentamente questo video allora la modalità fatti un giro voglio iniziare in modo completamente diverso da tutti gli altri youtuber diciamo che vi mostrano il gioco è una modalità che vi mette in grado di andare in giro per la città e fare ed esplorare insomma la città ma soprattutto potete prendere delle auto che avete e guidarle e quindi potete andare a fare un pochino quello che volete visitare la città io usavo appunto questa modalità qui con il volante perché è un gioco che ha la polizia ha le multe e quindi ha la possibilità di appunto se superate diciamo picchiate qualcuno in macchina fate un incidente superate un semaforo rosso investite qualcuno la polizia vi ferma e vi dà la multa questo è quello che era il fatti un giro una volta da quello che ho visto adesso sembra un po cambiato perché non potete più fare le missioni taxi da quello che ho capito una volta invece io andavo mi prendevo le auto ci sono auto nascoste per la città me le mettevo in garage insomma e vabbè poi si guadagnavano soldi mi piaceva il fatto che comunque come vedete nel tachimetro qua in basso a destra avete la benzina vi potete fare il carburante ai tempi uscì anche gta 3 il primo gta in 3d io fui molto tentato su quale giocare dei due ma vi dico la verità mi piacque di più questo per via del fatto che comunque si poteva riparare la macchina si poteva fare benzina era fortemente simulativo perché quello che potete vedere da qui è il fatto che la fisica dei mezzi l'accuratezza storica soprattutto appunto la fisica la pesantezza dei mezzi è percepibile quindi è molto molto bello questo mentre in gta diciamo che ai tempi sembrava veramente un'auto molto molto leggera che sparava via diciamo i lampioni partivano via quando gli andavate addosso invece qui vi schiantate addosso e rompete la macchina sono state fatte delle modifiche in generale al gioco adesso andremo alla mia partita e vi spiegherò anche il motivo per cui sto temporeggiando qui hanno aggiunto il garage quindi nella partita come anche avviene in gta 2 e in gta 2 scusate in mafia 2 che è uscito anch'esso in definitive edition potete immagazzinare tutte le diciamo le le auto che trovate in giro inizierete grazie alla storia anche ad apprendere quelli che sono i i vari luoghi i luoghi del bar saprete dov'è la sala riunioni del del boss e e all'interno della città che è composta in vari quartieri ai fatti tutti come la versione vecchia oltre che l'esterno della le campagne insomma imparerete a riconoscerli e soprattutto vi affezionerete il personaggio uno di quei pochi giochi in cui vi affezionerete ai vari comprimari che avete insieme a voi oltre che agli antagonisti insomma le auto veramente sono fatte benissimo ce ne sono tante tantissime allora andiamo adesso in modalità storia perché vi faccio vedere dove sono io vi spiego anche il motivo per cui io non ho non vi farò vedere anche della storia perché io preso dalla curiosità sono andato a vedere dei gameplay di chi poteva giocarlo in anticipo in modo da dare un'occhiata a questo gioco e mi sono bruciato la storia benché la conoscessi già però è stato tedioso poi rifare cose che avevo già visto e non ha senso per me spoilerarvi cose quindi vi parlerò di quello che è il gioco di quello che non è in breve allora quello che non dovete aspettarvi è un open world moderno cioè avete la città ma non è che vagando trovate questo voi seguite la storia l'open world la città i quartieri sono solo un surplus cioè voi vi muovete liberamente ma dovete andare in determinati posti quindi vagando divagando non avrete modo di avviare nessuna attività secondaria seguite la storia un'altra cosa importante da dire è che non avrete scelte multiple nei dialoghi ora attendiamo la fine del caricamento e poi andremo a vedere com'è questo gioco anzi è partito subito quindi siamo all'interno del bar noi verremo assunti non vi spiego come non vi spiego dove lo dico poi magari tanti di voi lo avranno già giocato avrete assunti da don salieri e inizierete la vostra campagna diciamo come picciotto come affiliato come camerata all'interno della mafia appunto conoscerete vari personaggi avrete il meccanico quello detto le armi avete appunto poi le armi che trarete per voi che la particolarità è che il gioco si divide in quattro livelli di difficoltà facile medio difficile e la modalità classica che ho scelto vi aggiunge alcune cose la classica è come una volta 18 anni fa il gioco originale cioè la possibilità se diciamo premete il tasto r che è ricarica e avete due munizioni nel tamburo le buttate via quindi dovete consumarle tutte per ottimizzare al meglio i colpi che possedete la polizia è molto severa in città quindi se superate col rosso se appicchiate la macchina o così via vi fermavi molta questo è ralfi inizia una delle parti più interessanti del gioco dove addirittura si andrà a fare una corsa automobilistica come si faceva negli anni 30 come vi dicevo non avete scelte multiple all'interno dei dialoghi cioè vi beccate la cazzina ve la vedete vi vedete il dialogo tutto doppiato in italiano tutto molto interessante e quindi dite ma non ha niente di moderno no il gioco è del 2002 è stato rifatto graficamente sono stati rifatti gli effetti di luce sono state aggiunte delle scene alcuni personaggi sono stati resi visto anche un pochino più cattivi alcune scene secondo me sono più belle altre un po meno belle però insomma se non l'avete mai giocato ve lo godete bello comunque se siete invece della vecchiera guardia insomma avete giocato il primo potreste giocarlo anche per vedere le differenze e niente ve lo questo garage ok qua ci illustra una nuova cosa questo dialogo nel vecchio gioco non c'era possiamo scegliere un nuovo veicolo e vedete tutti quelli che abbiamo preso fino adesso le auto che possediamo a bolt per la mamma mia se me no non era mamma mia prendo la volta che mi piace e addirittura uno dei primi giochi ad avere anche il cambio manuale quindi potete giocare anche col cambio manuale se non ricordo male però non ricordo il tasto adesso vado a vedere se c'è qualcosa c'era la possibilità anche di vederlo dall'interno io sto giocando con la tastiera non è comodissimo diciamo per alcune cose però vediamo guarda dietro maiuscola sinistra cambia stazione potete anche cambiare la stazione cambiare la visuale del tasto 5 ok si visuale così che usavo col volante se non c'è la visuale interna mi ricordo che la visuale interna col volante c'era solo con un'auto che è un'auto iper truccata quindi poi potete col tasto 4 spegnere la radio e poi guidate vedete che avete il navigatore in basso e la polizia voglio subito vedere effetti di luce di notte bellissimi non dovete superare il limite adesso riprovo a superare il limite adesso mi fermo e vediamo se avviene eh sì c'era scendo dalla macchina e mi multeranno mi farà il fogliettino con la multa mi pare che alla seconda inizino sparare quindi diciamo che siamo stati grazie nella modalità fatti un giro una volta c'erano dei soldi e si potevano guadagnare e li usavate per pagarle molte pagare il carburante mi pare che non sia più così purtroppo quella modalità lì però vabbè qui però avete tutto diciamo già non è un gestionale non è un gioco di ruolo nel senso che voi state guidando dove la quest vi dice di andare e lo fate ed è come godersi una storia leggersi un libro vedersi un film si ispira molto secondo me a quei bravi ragazzi il film che è bellissimo ed è un'esperienza e vi dico benché il movimento il fatto che comunque lo scavalcarvi ostacoli sia ancora legnoso come ai tempi un pelino meglio ma comunque legnoso rispetto magari a non c'entra un cavolo ma assassin's creed come movenza è uno dei migliori perché dovreste giocare a questo titolo allora lo hanno rifatto completamente graficamente è molto carino la storia è bellissima ci si affezioni personaggi come pochissimi altri giochi si fanno tante cose sparatorie corse in macchina colpi di scena pazzeschi personaggi a cui ci si affeziona personaggi che si odiano tante ambientazioni che poi resta restano in mente è a un pezzo anche interessante che costa 39 euro se non l'avete mai giocato è da prendere subito ve lo dico proprio chiaramente 59 euro invece avete tutti tutti i capitoli di mafia quindi questo il 2 e il 3 in versione definitiva quindi questo è un remake totale i vecchi vecchi che poi sono usciti dopo mafia 1 ma fa 2 ma fa 3 sono stati rivisti a livello grafico quindi migliorati calcolate che tutti sono doppiati in italiano e c'è una curata ricerca storica per controllare dalle macchine quando uscì ai tempi era una novità ovvio che adesso sono diventati tutti open world i giochi quindi non stupiscono più di tanto però questo è un gioco che io rigiocherò benché io sappia già la storia benché io sappia già come finisce perché mi piace rivedere i posti che ho conosciuto 18 anni fa ovviamente non lo giocherò più col volante simulando la guida perché io ho fatto la patente allenandomi anche con quello coi parcheggi cioè una cosa esagerata per una volta si lavorava molto molto di fantasia e quindi ci si fermava al al semaforo si aspettava il verde ha una cura nei dettagli che un gta non ha il gta è un titolo fracassone cioè battete di tutto di più fate salti qua no qua si sente il peso si sente la lentezza delle auto quindi ve lo godete così com'è dite guidate ok potete anche è una funzione stupida che hanno aggiunto il fatto di poter saltare tutti i trasferimenti in macchina però calcolando che il gioco dura una quindicina di ore godetevi anche la guida vi guardate intorno vedete le ambientazioni il sonoro la musica di sottofondo quindi di cose ce ne sono quello che stiamo facendo ora ed è l'unica cosa che vi spoilerò e dovremo fare una gara ma dobbiamo sabotare un'auto di un di un nostro avversario in pista e quindi guideremo quest'auto fino a casa e questa è l'auto più veloce che guiderete in gioco ok le ruote sono fatte benissimo prima del nuovo guardiano poi nel mafia 2 mafia 3 bene parlo perché comunque mi hanno mandato tutta la complete edition quindi vi dico potete fare molte più modifiche in 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 garage cambiando cerchi cambiando tutto quello che cambia è che in realtà in realtà non è molto focalizzato sulla gestione dell'auto nessuno di questi giochi della verità qua potete fare benzina ma in realtà la potete fare se vi volete giocare il gioco immedesimandovi in quello che fate se ve lo giocate invece come semplice esperienza visiva non farete benzina poi a mondo sono andato addosso le auto poi si danneggiano e il bello è che ci sono dei limiti di velocità che potete attivare col tasto L vedete che il tachimetro è diventato rosso quindi non supereremo mai le 60 miglia all'esterno fuori dalla città in città invece diventano 40 miglia quindi il limitatore scenderà ulteriormente ma a me non me ne frega niente perché devo arrivare a lucas bertone me lo ricordo questo questo tizio hanno tenuto le peculiarità dei personaggi vecchi li hanno cambiati un pochino esteticamente però tipo il il meccanico che balbetta anche adesso con il nuovo doppiaggio ci si abitua devo dire che non mi dispiace neanche il nuovo doppiaggio quello che viene in mente diciamo è la morale che insegna questo gioco perché ci affezioneremo i personaggi e ci piacerà stare all'interno di questa corporazione ma all'interno di tutta la storia la morale è se fanno soldi facili ma a quale prezzo e non vi dirò altro non vi dirò altro perché spoilerare per me sarebbe una cosa assolutamente che non mi perdonerei mai spoilerarvi una storia del genere però fa riflettere ed è una cosa che magari tanti giochi adesso non fanno più quindi le stelline non c'erano comunque che io ricordi però uscite dalla zona diciamo di ricerca e e poi non vi cercano più restate pacifici per un po' e poi andate e nello stesso punto Bertone è qua vicino al ponte me lo ricordo questa location mamma mia tra l'altro una cosa molto interessante io ho la tastiera banalissima tastiera cioè da gioco insomma della logitech e praticamente quando sono ricercato dalla polizia diventa a intermittenza russa e blu tutte le lettere quindi mi fa proprio lampeggiare la tastiera come la polizia niente ho fallito la missione perché ho aspettato troppo tempo mamma mia se va via quest'auto no veramente veramente non vedo l'ora neanche poi vabbè l'avete già visto si fa la gara e la gara in auto è una delle missioni più difficili della del gioco allora bene o male una mezz'oretta tre quarti d'ora più o meno ogni missione con tutti i dialoghi tutte le sfaccettature cioè il bello di non avere delle missioni in giro in cui voi vagate per la città prendete missioni il bello è quello che non troverete mai cose banali sono tutte missioni fatte a mano quindi con dialoghi colpi di scena e ogni missione è fatta bene ogni capitolo è fatto veramente bene e con tutte le sfaccettature di quello che si fa normalmente nella mafia quindi boi a mondo riciclaggio insomma il proibizionismo il whisky il fumo le sparatorie i sequestri insomma il fatto che comunque il nostro capo è molto carismatico imparerete proprio ad avere fiducia in lui disprezzerete proprio il il cattivo che è l'altro boss in realtà farà anche commuovere questo gioco perché ci saranno delle scene comunque piuttosto commoventi hanno aggiunto tra l'altro le motociclette che non c'erano nel gioco base adesso non so se avranno focalizzato magari qualche missione sulle motociclette però non c'erano un'altra cosa la sparatoria direttamente da come si dice mancano 50 secondi devo sbrigarmi le sparatorie dall'auto le hanno modificate nel senso che cioè non non sono come gta dove voi puntate col mouse e mirate alle gomme così il gioco vi punta in automatico l'auto e voi sparate ed è giusto così perché non non è che voi in auto mentre state guidando sparate e mirate a un punto preciso troppo facile quello e quindi sparerete un po' ad cazzum cercando il di colpire e di uccidere qualcuno eccolo qua questo è proprio la l'officina di Bertone vediamolo un po' sono curioso di vederlo non so se si chiamava Lucas o Luca nella vecchia versione ok intanto vedete che lui sta modificando l'auto adesso l'unica cosa che vi spoiler proprio dell'avventura gliela sabotiamo e poi andiamo cioè poi vi guardate intorno i cartelloni dell'epoca beccate anche i furgoni con i servizi vari che offrono e un'altra cosa che insegna a questo gioco per la ricostruzione storica è che voi all'inizio siete dei tassisti quello lo saprete già e mi fa riflettere perché questo è ambientato nel 1930 90 anni fa il tassista era una grande professione e bisogna comunque tenersi sempre aggiornati infatti il tassista ora non va va poco per i turisti insomma tutti ormai hanno un'auto lì al tempo no e anche lì come oggi il metodo più facile di fare i soldi è sono queste attività qui illegali ma a che prezzo è bello proprio tutto tutto il ragionamento ovviamente poi se siete delle persone cui non piace star lì e pensare ve lo godete ed è bello lo stesso però dobbiamo consegnare quest'auto all'autodromo esattamente dove l'abbiamo presa quindi magari adesso sgasiamo un po' e andiamo a riconsegnarla facendo finta di non aver fatto nulla perché il custode che conoscevamo ci ha concesso di entrare e portarvi all'auto e riconsegnargliela quindi spero di non riportargli la rotta e ah intanto vedete che sta salendo anche il danno al motore vedete che c'è quella barra lì quindi devo fare attenzione a non farlo surriscaldare tra l'altro sono distratto e non ho visto se c'era anche prima comunque basti pensare che il motore adesso è su tra l'altro tira da una tutta da una parte gli ho rotto una gomma probabilmente una ruota portandola lì però pazienza eh ho un minuto e mezzo poco meno quindi vedo di riportarlo rapidamente per tutta la pioggia che bello la gente in giro che si ripara non c'è un angolo di questa città che non sia fatto bene ovviamente come vi dicevo è vuota la città nel senso che avete tanti luoghi che visiterete nel corso dell'avventura biblioteca la galleria d'arte insomma quelle lì le riconoscerete passandoci davanti potete anche portare per dire per assurdo un vostro amico vuol venire a vedere il gioco andate in modalità fatti un giro e li fate visitare la città per assurdo tanto per farvi capire quanto è fatta bene mamma mia se qui si guida male sta macchina ma non ce la faccio non ce la faccio 38 secondi non ce la faccio non sono molto ottimista dai scule con sto taxi 31 secondi eh boh forse ce la facciamo forse no da prendere bene la mira ok andiamo di qua mamma mia non sta in strada poi a me non piace col pad sarebbe meglio guidare però a me non piace proprio il pad l'utilizzo del pad a me non piace niente dovevo sgasare un po' di più le missioni non sono semplici eh perché soprattutto queste a tempo non perdonano anche forse ce la faccio 5 4 3 no non ce la faccio forse ce la faccio è andato via il tempo quindi forse si ce l'abbiamo fatta salve gliela parcheggio qui eh sei tornato grazie al cielo ok ok alziamo i tacchi domani sarà un gran giorno si guardate poi come è fatta la dalle vettali del del freno siamo all'autodromo ho usato i sottotitoli perché tante volte magari all'inizio non avete ancora dimestichezza con i doppiatori quindi per capire chi sta parlando magari quando non sono inquadrati l'ho tenuto attivo vabbè intanto vabbè il linguaggio è un po' quello lì adesso non voglio evitare di farmi bannare da youtube non voglio farvi vedere nient'altro perché non ha senso questo è il nostro Frank il contabile il capo sta bene e non vi spoiler nient'altro fatemi sapere cosa ne pensate spero di avervi fatto cosa gradita di avervi portato questo mafia 1 remake qui insomma se non lo conoscevate molto male e dovete assolutamente giocarlo giocatelo qui non giocate la versione regga a questo punto perché si adatta meglio ai nuovi pc e al formato grafico insomma però fatemi sapere cosa ne pensate qua sotto alla prossima ragazzi e ciao ciao grazie 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 grazie